Guarda il titolo di quel fallito del Pipega. Maurizio, l'ho sbannato. Rospo Chaser. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ho letto Rospo Chaser? Il Pipega? Aspetta un attimo. No, 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 no. Il Pipega che è il Cloud Chaser più grande della storia ed è arrivato lì leccando i buchi di culi sporchi di merda? Il Pipega mi ha chiamato Rospo Chaser? La feccia di Twitch? La nullità più grande? Mi ha chiamato Rospo Chaser? Sì. Scritto fai l'uomo e vieni di scordora. Non ci siamo capiti. Non ci siamo proprio capiti. Non ci siamo proprio capiti. Così fai il suo gioco. No, adesso lo spengo. Ma cos'è sta merda? Cioè il Pipega non hai ancora fatto i miei follower? Sono fermo da un anno. Rospo Chaser. Sei ancora lì a 30.000. Porco Dio. Ma cosa sto vedendo? Ma mi può dissare il Pipega? Il Pipega. Allora facciamo così. Leva tutti i VOD dove mi reacti. Perché se no manderò gli strike a Twitch insieme alla mia agenzia. Contatterò il mio manager per far levare tutti i VOD dove ci sono io. E in più ho anche tutte le altre cose insieme sul tuo canale YouTube. Te li strike eroro tutti. Ti ho avvisato. Quindi contatterò anche in caso l'agenzia dove stai tu per far richiedere di rimuovere i VOD e le cose. E niente. Ti auguro una buona vita. Il Pipega. Wow bro. Cioè immagina tipo veramente proprio tipo lo scroto del niente. Cioè la nullità più nullità bro che mi prova a rispondere così. Sì sì lo faccio davvero lo faccio davvero. No io non sono umile. Bro era scrivere in chat. Per favore Rospo facciamo un live insieme. Dai ti prego dai. Ti prego devo leccare anche un po' di merda sulla lingua. Aspetta. No Pippo non ho voglia. Dai ti prego. Devo fare un po' di rispetto. Sei un clown bro. Ti fai donare porco Dio dalle persone. Lasciamo stare. Non mi far parlare bro. Che c'è l'unica persona che ti dona è una persona che non è in grado di comprendere. Dai. Porco Dio ma ti sei visto. 40 anni figa torna a vendere statuina. Il Pippega. Wow ragazzi. Il Pippega. Adesso contatto il mio manager notte. Io lo faccio. Bro senti io vorrei far rimuovere dei dei VOD dove ci sono anche io dove vengo reactato eccetera da uno streamer che secondo me non voglio e avevo già avvisato che non volevo che mi reactasse. Posso cioè gli strike li devo mandare tramite Twitch o devo fare qualcosa anche tramite l'agenzia? Pippega. Oh tienilo tienilo tienilo. Grazie. Aspetta le chat. Sì sì ho chiamato chiamato adu. Cioè l'ho scritto gli ho inviato un audio. No perché così ci capiamo. Ci capiamo. Cioè un personaggio del genere che sta così in basso in low che non ha ancora fatto nulla che non sa fare altro che fare due commenti bro mi prova a buttare merda bro sei tipo lo schifo dello schifo. Cioè che cosa what the fuck bro wow che schifo sapete perché perché sarà leccando il culo a qualcun altro sarà leccando il culo a qualcun altro minchia appena vedo il pippega cosa gli dico al vivo faccio una bella checchierata ci faccio una bella checchierata c'è una bella checchierata dal vivo pippega. intanto gli leviamo subito l'opportunità di fare alcune cosette tipo che si è un po' di più no al momento sono abbastanza inorridito e schifato si pentolino adesso mi metto con twitch un attimo a mandare un po' di strike voglio strikeare un po' mandare qualche strikeettino mh 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 se ti pega portato pomeriggio 5 su twitch non lo so fai gambling con soldi fake chi? mi pega non parla mai di se stesso sempre di altri vizi di merda ragazzi perché non ha niente da esprimere non ha niente da esprimere è una persona vuota poi d'altronde c'è comunque c'ha c'ha la sua età c'ha la sua età e non ha mai fatto un cazzo non è mai arrivato da nessuna parte e ne è fatto nulla e le persone importanti lo sanno tutti lo sanno tutti chi è il pippega cioè nel senso lo sanno lo sanno tutti tutte le persone che hanno un minimo di esperienza su twitch o nei social che chi è il pippega mister nessuno letteralmente è il pippo il pippo è il pippo